Preparatevi allo stupore, al terrore, all'eccitazione, al divertimento. Abbiamo per voi il meglio del meglio, il più colossale dei colossi. Ritorna in tv la seconda edizione di Hospital Show, il talent prodotto dalla nostra emittente televisiva Alpa1, ideato e condotto dagli artisti Maurizio e Giuseppe Calandra. Dopo il meritato successo della prima edizione, che ha visto esibirsi sul palco degli studi televisivi di Alpa1 più di 100 talenti provenienti da tutta la Sicilia, la macchina operativa si è messa in moto per organizzare Hospital Show 2. Tante novità di questa edizione, oltre ai fratelli Calandra, faranno parte del cast di showman Luigi Kirk e Gerardo Di Liberto, mentre si avvicineranno come giudici altri personaggi del mondo dello spettacolo, come cabarettisti, musicisti, cantanti e ballerini. La partecipazione al talent è gratuita e aperta a tutti, gli ispiranti concorrenti possono iscriversi tramite l'indirizzo mail alpa1casting.gmail.com Sono invitati a prendere parte allo show anche le scuole di ballo, canto e musica del nostro territorio. Basta infatti allegare alla mail una foto, la descrizione del talento o un breve video di presentazione. 8 le puntate previste per questa seconda edizione, con una formula ormai consolidata, che rende ogni serato uno spettacolo unico e appassionante. Quest'anno la trasmissione sarà trasmessa in prima serata contemporaneamente su tre emittente siciliane, Alpa1, TCS e TeleGela. E per la prima volta andrà in diretta anche sul canale Facebook della nostra emittente, e streaming su alpa1.com. Il talent andrà in onda a partire da maggio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS